Archeo Tour, un itinerario turistico che racchiude tre realtà splendide della nostra isola d'Ischia. Dottoressa Gialanella, il ruolo della soprintendenza? Il ruolo della soprintendenza è stato sempre quello di spronare voi schitani perché si arrivasse finalmente a questo risultato che è una prima parte di un percorso che potrebbe essere ben più esteso e ben più affascinante ma comunque è un primo passo e va benissimo perché appunto, come diceva lei, raccoglie e mette insieme realtà certamente di pregio come il santuario di Nitrodi dove ci saranno i calchi dei famosi rilievi con le ninfe come la novità di Enaria che diventa ogni anno più entusiasmante e come il nostro museo finalmente. Come è stato semplice o difficile in uno dei due casi contattare, mettersi di fronte o a fianco delle amministrazioni comunali? È sempre un po' difficile però dandoci dentro poi alla fine si riesce soprattutto a far capire che quest'isola merita un destino migliore e che è proprio sui suoi beni culturali, sul paesaggio che deve soprattutto puntare perché il mare, il sole e le pizze ci sono da tante altre parti invece qui queste realtà sono strepitose non solo ma possono aiutare il turismo soprattutto nei mesi in cui appunto mare, pizze e sole non ci sono.